Rai di Roma, sulla pedana dell'Arcobaleno l'onorevole Spataro introduce gli oratori che parleranno in pro del Fondo di Solidarietà Nazionale per i Disoccupati. Ecco Saraga. Tra i problemi sociali che astillano il paese, quello della disoccupazione è certamente il più grave. In un paese a territorio limitato e da popolazione densissima come il nostro, sarebbe arduo anche in tempi normali risolvere il problema dell'impiego totale della mano d'opera. L'impresa diventa addirittura difficilissima nelle circostanze attuali. Ecco la situazione. Fanfani vi dirà le cifre. Oggi contano negli uffici di collocamento un milione 852.667 italiani che richiedono lavoro. Oltre che di fame si tratta di dignità della creatura umana. Sottoscrivere al Fondo di Solidarietà per i Disoccupati è contribuire alla ricostruzione di Morave d'Italia.